Musica Ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV, c'è la politica nazionale in primo piano e le mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia Bonafede, respinte dall'Aula del Senato sia quella del centrodestra che ha ricevuto 131 voti a favore e 160 contrari e un astenuto sia quella di più Europa, Emma Bonino che è stata bocciata con 158 no, 124 sì e 19 astenuti una seduta calda, quella che è cominciata stamattina a Palazzo Madama Emma Bonino di più Europa aveva attaccato il Ministro, un Ministro del sospetto che non giova all'Italia aveva dichiarato per Matteo Orfini invece occorre dire no alla sfiducia ma la gestione è stata pessima il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha sottolineato è l'intervento tra i più difficili della mia vita ma poi votiamo no aggiunto perché vogliamo rifiutare la cultura del sospetto nutrita la presenza del Governo in Aula con diversi Ministri accanto al Guarda Sigilli, Di Maio, Franceschini, Dincà, Crimi, Fraccaro e Bellanova e la vicenda che riguarda, lo ricorderete anche la polemica con Nino Di Matteo è stata ormai a dir poco sviscerata in ogni sua parte ha dichiarato il Ministro nel suo intervento sono stati ampiamente sgomberati tutti gli pseudodubbi andiamo ad ascoltare dunque un passaggio dell'intervento del Guarda Sigilli quando si giura sulla Costituzione come Ministro della Repubblica si decide di essere in tutto e per tutto uomo delle istituzioni in queste ultime tre settimane fuori da qui si è sviluppato un dibattito gravemente viziato da allusioni e illazioni ma per rispetto delle istituzioni piuttosto che alimentare polemiche ho condiviso fin dall'inizio l'esigenza del Parlamento di un confronto che si è già sviluppato al Senato con quattro interrogazioni e risposte immediata e alla Camera con due interrogazioni e risposte immediata un'audizione in Commissione Giustizia e un informativo giugente in Aula ripercorrerò adesso i punti delle mozioni presentate le cui ragioni sono praticamente opposte tra di loro e replicherò alle stesse portando avanti molto semplicemente la forza e l'evidenza dei fatti tutti qui documentati questo è dunque il passaggio iniziale dell'intervento di Bonafede ma le polemiche continuano tra maggioranza e opposizione rientriamo in regione ora per un'ampia pagina di cronaca a partire da due episodi per certi versi simili con Trieste da un lato, Cervignano dall'altro si sono verificati nelle ultime ore a Trieste un gesto teatrale a Cervignano una lite per futili motivi in entrambi i casi è spuntato un coltello ci racconta tutto Francesca Santoro una provocazione alquanto teatrale sarebbe all'origine del gesto che ha seminato il terrore ieri nel tardo pomeriggio a Trieste in pieno centro erano le 18 quando vicino a un kebab di Piazza Goldoni un uomo si è fermato armato di coltello a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine è stato un passante la polizia ha identificato l'individuo un triestino classe 54 e dopo avergli chiesto di gettare a terra l'arma lo ha immobilizzato il 66enne dopo un diverbio con una donna le avrebbe teso il coltello per farsi uccidere una messa in scena che gli è costata cara visto che ha rimediato una denuncia per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere e oltraggio pubblico ufficiale a Cervignano invece un litigio fra due fratelli colombiani poteva trasformarsi in tragedia per futili motivi nella serata di ieri uno dei due ha colpito l'altro al petto con un coltello da cucina da quanto ricostruito dei carabinieri i due avrebbero iniziato a litigare durante la cena poi intorno alle 21 la situazione sarebbe degenerata al punto di spingergli a passare dalle parole ai fatti l'uomo coltellato è stato soccorso dall'equip medica della Croce Verde Cervignano Basso Friuli fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi ma è stato ricoverato l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine la lama non avrebbe compromesso alcun organo vitale quindi l'uomo non sarebbe in pericolo di vita la polizia di Udine invece ieri pomeriggio ha proceduto al sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria dei locali di un'associazione di Udine la Tri Line di via Baldasseria Bassa la misura cautelare è stata adottata a seguito di una serie di controlli disposti dalla Questura per contrastare il fenomeno dei cosiddetti circoli culturali che si trasformano spesso in veri e propri esercizi pubblici gli accertamenti iniziati nel 2019 coordinati dalla squadra amministrativa della Questura hanno evidenziato una conduzione irregolare del circolo con attività di intrattenimento e spettacolo somministrazione di bevande e alimenti non consentita già in passato il Questura aveva disposto la chiusura dei locali per motivi di ordine pubblico la polizia stradale invece anche nella fase 2 dell'emergenza continua con i controlli concentrati non solo sul rispetto delle norme di contenimento del virus ma anche a tutela della sicurezza della circolazione e proprio lunedì verso le 12 una pattuglia della postrada di Udine impegnata in un controllo lungo la regionale 352 ha visto avvicinarsi a gran velocità una moto che ha effettuato repentini sorpassi nonostante la manovra fosse vietata in quel tratto di strada il personale ha quindi intimato l'alta al centauro che si è però lanciato in una rocambolesca fuga dopo un inseguimento gli agenti sono riusciti a fermarlo alle porte di Palmanova subito il motociclista apparso in forte stato confusionale è stato invitato con le dovute cautele a scendere dal veicolo a fornire le proprie generalità nel frattempo è arrivato un parente che ha spiegato agli operatori che l'uomo soffriva di bipolarismo ed era in preda ad una grave crisi quattro assalti ai Bancomat e Postamat tra Friuli e Veneto nella notte con solo in un caso il colpo è andato a buon fine Luciani Delfonso Sportelli Bancomat nel mirino dei malviventi nella notte tra Friuli e Veneto il primo tentativo di furto si è verificato per Cotto località del comune di Pavia di Udine dove un forte boato è stato avvertito intorno all'1.50 provenire dalla filiale della Banca Ter lo scoppio ha attivato i sistemi di sicurezza ma a dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona svegliati da quell'insolito rumore udito in piena notte i ladri sono scappati poco dopo senza riuscire nel loro intento criminoso stessa scena circa 40 minuti più tardi a Mortegliano verso le 2.30 malviventi hanno preso d'assalto lo sportello della banca credita agricol anche in questo caso ignoti non sono riusciti a prelevare il denaro contante contenuto nel dispositivo automatico sui fatti indagano i militari dell'arma della compagnia di Palmanova e di Latisana che stanno svolgendo gli accertamenti del caso intorno alle 3 del mattino forse la stessa banda si è trasferita in Veneto dove a Portoguaro è stato fatto esplodere un altro bancomat questa volta di poste italiane la detonazione ha completamente devastato gli uffici della filiale ma non è stata sufficiente per permettere ai ladri di allontanarsi con il denaro infine circa 40 minuti dopo tramite l'utilizzo di un ordigno artigianale confezionato con della polvere nera i ladri hanno fatto saltare il postamat di Maron di Bruniera portando via 20.000 euro per questi ultimi due casi indagano i carabinieri delle compagnie di Portoguaro e Sacile ma non si esclude che ad agire possa essere stata la stessa banda sempre in provincia di Pordenone la squadra volante della Questura è intervenuta presso un'azienda di Porcia dove poco prima era arrivato un camion proveniente dalla Slovenia condotto da un autotrasportatore bosniaco per la consegna di materiale in quanto durante le fasi di scarico tra i bancali sono stati trovati nascosti due cittadini stranieri dall'apparente età di circa 20 anni che sono stati quindi condotti per accertamenti in Questura e a seguito di questi si è riscontrata l'estraneità dell'autista rispetto a eventuali condotte illecite trattandosi nel caso di specie di una delle tante consegne che da tempo l'uomo faceva presso l'azienda agricola di Porcia il 20enne il 21enne sono entrati quindi irregolarmente sul territorio italiano provenienti direttamente dal confine croato-sloveno lo scorso 11 gennaio invece si era presentato nella caserma dell'arma affermando di essere rimasto vittima di un furto presso la propria abitazione a Bordano lamentando l'ammanco di moltissime monete di interesse storico e numismatico per un valore complessivo di circa 200.000 euro per questo motivo un uomo di 60 anni di Bordano è stato denunciato per simulazione di reato dai carabinieri della stazione di Osoppo le indagini che hanno subito nutrito sospetti rispetto alla ricostruzione dell'accaduto con una recente perquisizione domiciliare nella casa dell'uomo hanno permesso di rinvenire le monete che sono state poste sotto sequestro l'inchiesta coordinata dalla procura di Udine dovrà accertare le motivazioni che hanno portato alla simulazione del furto cambiamo argomento e veniamo ai temi legati all'emergenza covid-19 in Friuli Venezia Giulia ieri vi abbiamo anticipato la decisione imminente della giunta di dire no all'arrivo del traghetto ospedale per i pazienti di Trieste positivi al virus ebbene la nave per l'accoglienza e la cura degli anziani ufficialmente non arriverà nel capologo Giuliano a confermarlo stamattina durante l'audizione in commissione consigliare il direttore generale dell'azienda sanitaria Isontino Giuliana Poggiana che ha dichiarato era lo strumento per un fine siamo partiti da un'analisi di un fabbisogno forte ma è venuto meno così Poggiana oggi ha detto poi con l'ausilio dei tecnici della SUGI ci sono 189 ospiti delle case di riposo positivi 131 sono guariti non ci sono nuovi focolai e servono 70-80 posti nelle RSA per i positivi Poggiana ha precisato non avevamo bisogno di una nave andava bene anche un aereo un albergo un luogo che rispondesse ad alcuni requisiti erano stati valutati l'hangar del molo 4 il palazzetto dello sport di Chiarbola e spazi a Cattinara ma avrebbero garantito massimo 123 posti al costo di 8 milioni di euro e 70 giorni di tempo per gli allestimenti queste le spiegazioni rese anche dinanzi all'assessore alla sanità Riccardo Riccardi che alla fine della audizione è poi intervenuto aggiornando sulla situazione ascoltiamo l'intervista Sì ho ascoltato toni sicuramente legittimi da parte di chi fa delle domande ed è giusto che le domande o le preoccupazioni vengano date delle risposte ho ascoltato tanti altri toni e questi toni sono inaccettabili di coloro che ogni giorno ti spiegano quello che avresti dovuto fare il giorno dopo senza rispetto nei confronti di tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza in prima linea con le difficoltà di dover decidere di assumersi delle responsabilità rispetto alla vita delle persone qui si pensa di trasformare dei casi qui non ci sono casi qui c'è una regione che presenta il miglior dato del nord è una regione che ha dati diversi all'interno del proprio territorio è evidente che Trieste presenta dei dati diversi perché la condizione di un agglomerato di una città di queste dimensioni è diverso dal resto del territorio regionale c'è un problema di anzianità ci sono tante condizioni diverse ma a me pare che se noi paragoniamo il dato complessivo e anche i focus che possiamo fare sui singoli territori se li paragoniamo a quello che è successo nel resto del paese io credo che l'unica cosa che dobbiamo dire è dobbiamo dire grazie a tutti coloro che in prima linea dal sistema sanitario al sistema di protezione civile hanno messo la faccia hanno deciso e ci hanno portati fuori da questa prima fase sapendo che questa prima fase non conclude questa esperienza e avendo l'attenzione e la precauzione rispetto a quello che la seconda fase presenterà Assessore lei ha anche fatto riferimento alla capacità di ragionare da parte delle strutture in termini regionali non ci sono stati ragionamenti peculiari di territorio anche per quel che riguarda la distribuzione delle terapie intensive non c'è mai stata la terapia intensiva di Udine di Trieste di Gorizia o di Pordenone c'è stato il sistema regionale che ha dato una risposta importante e io credo che questa sia stata una crescita forte di tutti i professionisti che ogni giorno affrontavano i problemi delle persone che rischiavano di perdere la vita e questo ha riguardato il domicilio le case di riposo gli ospedali è stato un lavoro duro molto duro è per quello che dico che c'è bisogno del rispetto nei confronti delle persone che hanno lavorato e hanno dato tutto di loro stessi peraltro leggo anche qualche sondaggio che riguarda il lavoro del Presidente Federica della Giunta regionale e mi rincuora rispetto a diverse parole che ho ascoltato da alcuni dei consiglieri che stanno seduti qui su quelli non posso altro che avanzare purtroppo la mia amarezza L'altra situazione difficile che rimane anche in Friuli Venezia Giulia è quella delle casse integrazioni ebbene è stato firmato un accordo tra la Confindustria Udine Confcommercio Confapic Confidi Friuli e Banca Prima Cassa per anticipare e accelerare i tempi andiamo ad ascoltare dunque il servizio a cura di Francesca Santoro per quanto riguarda proprio le casse integrazioni anticipate da parte delle associazioni di categoria Un'alleanza volta il sostegno alle imprese per anticipare la cassa integrazione ai dipendenti così si può definire l'accordo ideato da Confindustria Udine e sottoscritto con Confcommercio Udine Confapi FVG Confidi Friuli e Banca Prima Cassa FVG l'obiettivo di aiutare le aziende che in conseguenza la crisi determinata dall'emergenza Covid-19 hanno attivato o attiveranno gli ammortizzatori sociali sostenendo i lavoratori che ancora non vedono i soldi in busta paga Prima Cassa FVG si impegna a valutare la concessione a favore delle imprese scritte al Confidi Friuli e associate a Confindustria Udine mentre Confcommercio e Confapi garantiscono una linea di credito finalizzata all'anticipo della cassa integrazione o di altri ammortizzatori sociali deliberandola nei tempi più rapidi possibili Confidi Friuli si adopererà in particolare per rilasciare la garanzia sulla linea di credito deliberata dalla banca per un importo massimo dell'80% del fido accordato in questa fase sottolinea la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli illustrando lo spirito dell'iniziativa le aziende hanno enormi problemi di liquidità ma hanno comunque anticipato l'ammontare degli ammortizzatori sociali nella consapevolezza del ritardo con cui altrimenti i collaboratori li avrebbero ricevuti con questo accordo vogliamo sostenere e incentivare tale sforzo e dimostrare concretamente come una collaborazione virtuosa tra istituzioni banche e imprese possa produrre azioni incisive se basata su un'assunzione di responsabilità condivisa secondo il presidente di Confcommercio Udine Giovanni D'Apozzo si tratta di una risposta concreta all'urgenza di liquidità immediata per tutelare il patrimonio delle risorse umane una soluzione tempestiva come rimarcato dal presidente di Confapio FWG Massimo Paniccia oltre che uno strumento mai sperimentato prima come sottolineato dal presidente del conflitto di Friuli Cristian Vida consentire la riapertura delle attività commerciali nelle giornate festive è stato un errore a sostenerlo la CGL del Friuli Venezia Giulia Luciani Delfonso consentire la riapertura delle attività commerciali nelle giornate festive è stato un errore a dichiararlo il segretario generale della CGL del Friuli Venezia Giulia William Pezzetta critico sul punto 13 dell'ordinanza del 17 maggio nella quale la regione fissa le nuove regole in materia di contenimento dell'epidemia e per la ripartenza delle attività commerciali a creare maggiori perplessità la liberalizzazione degli orari commerciali e in particolare delle aperture festive che per pezzetta non rappresentano né una scelta obbligata per il settore né una soluzione che finora abbia favorito il rilancio dei consumi l'unica vera conseguenza da quando sono state introdotte commenta il segretario della CGL è infatti quella di aver cannibalizzato il settore a danno della piccola distribuzione e dei negozi di vicinato e di aver peggiorato le condizioni di lavoro e il ricorso a contratti precari nel commercio inoltre va considerato il periodo di emergenza sanitaria che il paese sta attraversando con l'apertura dei negozi la domenica prosegue pezzetta sarà più alto il rischio di assembramenti nei negozi e nei centri commerciali il rischio per il numero uno della CGL è che l'immediata deregualation delle aperture finisca per allargare la spaccatura tra grande e piccola distribuzione a partire dai negozi di vicinato da qui la proposta di un fronte comune con le associazioni di categoria per sostenere le ragioni dei più piccoli e a favore di un new deal nelle politiche per il commercio di questa regione un argomento che ha richiamato anche l'intervento di Giovanni D'Apozzo presidente della Conf Commercio Friuli Venezia Giulia il quale ha dichiarato la questione nazionale serve in tal senso una presa di posizione governativa servono regole chiare necessariamente nazionali appunto che contengano il numero delle aperture dei giorni festivi a tutela del commercio tradizionale che ha un valore anche sociale non solo economico che deve dunque essere messo nelle condizioni di resistere alla concorrenza della grande distribuzione tra i tanti settori in crisi c'è anche il mercato dell'auto che in Unione Europea più i paesi dell'EFTA e del Regno Unito ha subito un crollo delle vendite del ben 78% crollano le vendite di auto in Europa in aprile primo mese intero di restrizioni per il coronavirus con tutte le fabbriche le concessionarie chiuse le immatricolazioni nell'Unione Europea nei paesi EFTA e nel Regno Unito sono state poco più di 292.000 il 78,3% in meno dello stesso mese del 2019 quando erano state vendute oltre 1.345.000 auto da inizio anno il calo è del 40% quello di aprile è un record negativo in termini di volumi spiega l'Associazione Nazionale Filiere Industria Automobilistica Paesi come Francia e Germania corrono ai ripari e hanno già allo studio incentivi alla rottomazione anche in Italia dove le misure annunciate nell'ambito del decreto rilancio riguardano biciclette e monopattini gli operatori si aspettano più attenzione all'auto di concreto ancora non c'è nulla e l'attenzione al momento sembra rivolta soltanto alle vetture green le prospettive per i prossimi mesi restano cupe ciò per il fatto che il decreto rilancio ha completamente ignorato l'esigenza avvertito ovunque in Europa di rilanciare la domanda di auto con incentivi alla rottomazione che prevedano pure acquisto di vetture nuove di ultima generazione con alimentazione tradizionale spiega il presidente del centro studi promotor Gian Primo Quagliano mentre emerge ovunque con chiarezza che l'automobile è il mezzo di trasporto più sicuro per evitare il contagio da coronavirus osserva Quagliano nel nostro paese si assiste a una gara tra amministrazioni pubbliche per introdurre imitazioni alla circolazione di auto con disprezzo dell'esigenza prioritaria di salvaguardare la salute pubblica e a livello europeo si discute tra le varie nazioni per le riaperture dei confini la Spagna per esempio ha abrogato il divieto di ingresso nel paese imposto oltre due mesi fa per i voli e le navi passeggere ad eccezione di quelle da crociera provenienti dall'Italia facciamo il punto della situazione i paesi europei iniziano a muoversi per far ripartire il turismo ha iniziato la Spagna che riaprirà i voli e i traghetti provenienti dall'Italia eliminando le restrizioni in vigore da due mesi a causa del coronavirus l'apertura di Madrid arriva in una fase in cui anche a Roma il ministro degli esteri Di Maio è in pressing con i colleghi europei per scongiurare fatti bilaterali di scambio di turisti a scapito di altri paesi è questo il senso di una lettera alla Bild in cui Di Maio ha invitato i tedeschi a venire in vacanza in Italia perché è sicura la metà marzo lo spazio Schengen è di fatto sospeso circa la metà degli stati membri hanno chiuso le frontiere interne e rafforzato i controlli ora dopo due mesi l'Unione Europea ha aperto a una fase 2 anche per le frontiere interne la Spagna ha quindi abrogato il divieto di ingresso nel paese per i voli e le navi passeggeri provenienti dall'Italia resta in vigore il divieto per le crociere provenienti da ogni parte del mondo ma chiunque arriverà in Spagna sarà ancora sottoposto alla quarantena di 14 giorni fin quando resterà in vigore lo stato di emergenza verosimilmente a metà giugno i tedeschi per il momento vanno verso una progressiva riduzione dei controlli con i paesi limitrofi nel Regno Unito secondo la stampa locale la quarantena per chi arriverà dall'estero potrebbe non valere per alcuni collegamenti con paesi a basso tasso di diffusione del Covid e per i turisti che ritorneranno in Friuli a Udine in particolare si va verso anche la riapertura degli spazi dei musei cittadini stamattina abbiamo raggiunto la responsabile di casa Cavazzini sentiamo cosa ci ha detto tutti si chiedono quando sarà possibile riammirare gli spazi di casa Cavazzini per esempio anche alle esposizioni in castello sicuramente presto prestissimo stiamo lavorando per garantire un'apertura in sicurezza per tutti naturalmente stiamo convergendo su alcune date il primo a riaprire sarà il castello e se tutto va bene riusciremo a riaprire per il 28 quindi per giovedì della prossima settimana ma sarà la giunta a decidere sulle modalità di riapertura dei musei anche casa Cavazzini è diciamo ai blocchi di partenza e speriamo di riuscire a poter consentire l'ingresso già entro l'11 giugno di seguito anche il museo etnografico di cui prevediamo l'apertura per il 18 giugno naturalmente l'apertura sarà come prescritto dalla normativa nazionale in materia di emergenza sanitaria sarà contingentata sarà la visita sarà possibile solo tramite prenotazione online ed acquisto possibilmente del biglietto pure online assolutamente d'obbligo saranno lo vedete anche per noi che ci lavoriamo le mascherine i guanti la sanificazione delle mani soprattutto e la distanza di sicurezza Bagna solo una curiosità rispetto anche alle persone che vediamo alle nostre spalle prima appunto è arrivato un quadro lo stavate sistemando che quadro è? che cosa si tratta? si tratta di due dipinti di The Peasys che sono stati esposti fino agli inizi di marzo in una mostra monografica che si è tenuta al museo del novecento di Milano purtroppo avrei dovuto andarli a riprendere personalmente e riportarli a casa ai primi di marzo ma quello che è successo ha impedito il rientro di queste opere queste opere quindi sono ritornate oggi con tutte le cautele del caso adesso tra l'altro verranno messe in quarantena perché non possiamo sanificarle ma dobbiamo assicurarci che siano prive di qualsiasi possibilità di contagio vengono tra l'altro appunto da Milano quindi da una zona considerata rossa le metteremo in quarantena per dieci giorni dopodiché potranno essere nuovamente esposte apriamo la pagina sportiva altra giornata di allenamenti individuali per l'Udinese che si è riservata il tempo di ulteriori valutazioni prima di avviare le sedute di gruppo sulla data di ripresa del campionato e del format per concludere la stagione c'è l'attesa per l'incontro del 28 maggio tra Governo Lega e Feder Calcio Lorenzo Pausa via libera le sedute di gruppo dopo l'approvazione del nuovo protocollo sanitario sugli allenamenti regole meno stringenti per i club che da oggi possono reintrodurre tutti i lavori con il pallone partitelle comprese nel programma di ripresa della preparazione possibilità per il momento ancora non sfruttata dall'Udinese ma solo per valutare con massima attenzione tutti gli elementi del nuovo documento per oggi dunque ancora allenamenti in forma individuale ma nelle prossime 24-48 ore anche i bianconeri dovrebbero tornare a presentarsi a ranghi completi per lavorare tutti assieme agli ordini del tecnico Luca Gotti la strada verso il ritorno alla normalità sarà comunque graduale all'ingresso del centro sportivo misurazione della temperatura corporea per tutti tramite termoscanner ammessa la presenza sul campo dei membri dello staff purché muniti di guanti e mascherina rispettino il distanziamento sociale per la prima settimana sarà ridotto al minimo l'utilizzo della palestra e dello spogliatoio dove i giocatori potranno cambiarsi a due metri di distanza per poi però fare la doccia a casa ma l'ok più atteso è quello riguardante la quarantena ad andare in isolamento sarà solo il singolo contagiato mentre per i contatti ravvicinati scatterà ritiro in una struttura concordata con la possibilità di continuare ad allenarsi disciplinato in via definitiva il periodo di ripresa degli allenamenti ora il focus si sposta sul campionato che necessita di un ulteriore protocollo già in fase di studio da parte della commissione di esperti della FIGC sulla data di ripartenza e sulle modalità di conclusione della stagione su cui si è discusso stamane in consiglio federale si attende ora l'incontro del 28 maggio tra Lega Federcalcio e il ministro Spadafora il ballottaggio è tra il 13-14 giugno ipotesi caldeggiata da Gravina e d'Alpino e il weekend successivo come auspicato invece dal patron Gianpaolo Pozzo l'obiettivo resta quello di giocare tutti i turni mancanti sfruttando eventualmente anche l'inizio di agosto su concessione dell'UEFA ma si valuta anche l'opzione play-off e play-out ci fermiamo qui l'informazione tornerà live alle 19 più tardi grazie a tutti